Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo al crash, riguardo all'explora file sul nostro sistema operativo ovviamente proprio ieri mi sono ritrovato davanti a questo problema dell'explora file che quando andavo a cliccarci sopra andavo così a sfogliare un po' nelle cartelle crashava l'explora file, mi faceva lo schermo grigio e poi usciva tipo un pannello bianco di microsoft, una cosa del genere e mi crashava quindi in questo caso ho risolto in due metodi, uno andando un attimo su gestione attività, quindi vai su gestione attività, tasto destro su start scendiamo fino a giù fino a trovare così l'explora file ed ecco esplora risorse termina attività, esegui nuove attività e qui vai a scrivere explorer, ok, explorer e fai ok come secondo metodo invece tasto destro su esplora file, rimuovi dalla barra delle applicazioni ora andiamo così a creare una cartella, facciamo così nuovo, fai cartella, chiamala file, invio, apri così questa cartella tasto destro sopra qua, aggiungi alla barra delle applicazioni e la metti a fianco a un'altra applicazione che è qua sotto e chiudi qua, esplora file, ci clicco sopra e non ho più problemi quindi se questo video ti è stato utilissimo come salvare il problema al crash per altri problemi ancora sempre riguardo al crash dell'explora file commenta sotto al video, cercherò di realizzare altre guide a riguardo iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao 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 ciao